sa che rientra a casa la primavera con me è casa mia strano ora che sono su sono entrato eh anche qua ci stiamo trasformando nell'asino barbagianni perché vado un attimo in camera anche sulla porta della mia stanza ma non andava bene questo ma l'ha voluto toglierlo come non ho sentito ah ma scusa potevi dirlo anche prima no invece di farmi girovagare come un nomade su tutto il perimetro della mia abitazione ma certo la primavera le porte è anche ragione come un babbo me l'ho anche dimenticato